Oddio che schifo Ok, allora praticamente Ciao Glitters e bentornati sul canale Oggi un nuovo video di Blind Bags che abbiamo trovato in edicola Dunque allora, oggi ci sarà una specie di gara fra quelli che ho scelto io e quelli che ha scelto Melanie Io ho scelto i My Lovely Pony Baby Village Che come potete vedere sono appunto dei pony, questo è tutto rosa Dovrebbero avere una casetta 3D e in più dovrebbero essere vellutati Io onestamente mi aspetto una cosa molto trash Candy, bisogna rifarti un po' il rossetto secondo me Eh sì, anche se il cognome ho le labbra screpolate con il freddo Ed io invece ho scelto i sofficiotti baby, dovrebbero essere anche profumati Oh, che carini, questi dovrebbero essere una specie di moji moji Sì, esatto Glitter, proprio quelli Chissà se saranno difettosi come i moji moji oppure saranno più carini Ce ne sono due in ogni bustina Vabbè oddio, non è che ci vuole tanto ad essere più carini dei moji moji Quei cosi erano fatti veramente malissimi Falli sofficiottare tra loro Che carino, sofficiottare, sofficiottare Sofficiottare, sofficiottare Glitter oggi ha messo troppo i biscotti nel latte, perdonatela Bene Glitters, vedo un bel po' di blind bangs da aprire Io inizierei dai sofficiotti Poi una di Candy, poi una di Melanie e poi l'altra di Candy Questa è la confezione Qui c'è anche una puputa nirissima Super kawaii Questo è il retro, non c'è una checklist Ma ci dice che ci sono 16 modelli Ok, consigliato dai 6 anni in su Bla 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 E costano 3 euro Perché sia inutile che diciamo 2 euro e 99 su 3 euro Apriamo subito la confezione E... Aspettate perché ce ne sono due Vediamo il primo Ale... Mamma mia che profumo Appena aperto la confezione c'è stato un profumo assurdo Ma che carino No ma... Ma è carinissimo Ehi, sono dipinti molto meglio dei Moji Moji Ma che cos'è? Un lupetto? Aspettate che io devo sentire il profumo Perché... Oddio che schifo Ok, allora praticamente Cosa è successo? Oddio Hanno provato a mettere del profumo Solo che sotto c'è la puzza di plastica E quindi profumo E puzza di plastica Un odore assurdo Vabbè Forse tenendoli un po' fuori Questa puzza sfumerà un po' Però guardate quanto è carino È super sufficioso Ma sicuri che il latte Bu fosse buono questa mattina? No, perché c'è A sto punto devo preoccuparmi Vediamo il secondo E speriamo ci sia anche una checklist Oh, il gatto chiatto Il gatto chiatto Rosa Eccolo qui Sono un gatto chiatto Così io mi rilasso Sono un gatto chiatto E mi rilasso È bellissimo È soffigolissimo Corino Oh, raga, vi giuro Sono troppo morbidosi sti cosi Guardate quanto è carocchino Il carocchino È carocchissimo Ok, basta Ah, questo sa più di fragola Questo sa di fragola Mi ricorda moltissimo Quei lucidalabbra Che uscivano col cioè Quando io ero piccola Ciompettiamo sul gattone Ciompettiamo sul gattone Candy Eh Gli stai ciompettando sullo stomaco Oh, scusami Eh, sei tanto morbidoso Io invece adoro tantissimo Questo qui Non è uscita una checklist Ma sono sicura Che sia un lupetto O comunque Per me è un lupetto Come lo chiamiamo, Glitters? Già, Glitters Suggeriteci i nomi Qui sotto nei commenti Beh dai Con quelli di Melanie Non siamo andati male E quelli di Candy Saranno all'altezza Vediamo subito Eccoli qui Questa è la confezione Dovrebbe esserci Un pony E una boutique E questa è la checklist Oh, guardate qui Abbiamo Iris Diana Jenny Angelina Che è molto carina Sid Che carino Tiffany Roxy Drizzy Leo Amber Ok, penso che la mia preferita Sia Angelina Sì, mi piace tantissimo Anche Jenny E anche Iris O Iris E questi sono i loro negozietti Che cosa carina Vediamo subito come sono Ok, sento il vellutino Sento il vellutino Ecco qui Il negozietto Ah, ma è di plastica Credevo fossero di carta Oh, piccola Eccolo qui Wow Ma sembra Trilly Noi Glitters Mi aspettavo una cosa Fatta malissimo Invece sono fatte Abbastanza bene A parte lo sguardo Da cattiva Cioè che sembra sia per dire Io vi distruggerò tutti Avete capito Vi distruggerò tutti 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 Non lo so A me dà questa impressione Comunque a parte questo È molto carina È molto ben fatta Guardate che bello L'effetto peluscioso E sono rimasta Pacevolmente sorpresa Dal fatto che la casetta Sia in plastica Bello Ah, questo è un cinema A lei piace andare al cinema Evidentemente in cosplay Perché vedete Sta andando a vedere Tipo Trilly E lei ci è andata in cosplay Evviva, evviva Vediamo il film Uhuh Bello, mi piace Per me il cinema è un po' piccolo Però come arredamento Per la mia cameretta Non è male Potrei utilizzarla come Casetta per le bambole Adesso vediamo Gli altri sofficiotti Baby Dai oggi Non stiamo andando Tanto male Oh Perché parlo? Perché parlo? Vabbè Doppione Ok Speriamo non sia No vabbè Sul serio Non ci posso credere Ma perché Non mi sto zitta io Vabbè Si è uscito Un altro lupetto Però vedete Devo dire che sono Disegnati molto bene Sono fatti veramente bene Sono usciti senza difetti Glitters E Davvero Non è una cosa ovvia Per questi Cosini Però Uffi Avrei preferito Avrei preferito Altri personaggi La mia solita Sfortuna Uccello Speriamo Non esca un doppione Anche a me Vediamo un po' Incrociamo le dita Per Candy No glitters Non è un doppione Questo sembra Una sala Giochi Si che bello Quindi anche questo Possiamo mettere Nella cameretta Di Candy Vediamo un po' Il pony Oh è piccolino E' un po' Più piccolo Dell'altro Sbaglio Comunque non capisco Perché questi pony Oddio Questo ha delle crisi D'identità Qui è arrabbiato Qui invece è gentile Arrabbiato Gentile Ehi ce l'hai con me? Oh ciao Allora? Ciao Sì ok La smetto I giocattoli Sono per bambini No ma io ci voglio giocare Però No sono per bambini Ma io ci voglio giocare Sono bipolare Tu mi fai pensare Che Sia tutto così facile Che mi fai credere Alle favole Abbiamo un pony Bipolare Che Vuole giocare E poi Non vuole giocare Ebbene Sì Glitters Ci è uscito Il pony Bipolare Però dai Oh Candy Dai Non ti emozionare No Però dai Queste casette Effettivamente Sono molto Molto carucce Guardate Anche messe così Vicine Con i loro pony Questo ormai Si è chiuso nel cinema Evidentemente il film È molto interessante Perché è rimasta chiusa lì Uffa Mi spiace tantissimo Che qui siano usciti Dei doppioni Sembravano fatti Super bene Ma adesso Glitters Tocca a voi Votate qui sotto Nei commenti La vostra Blind Bank Preferita Quella che ci ha regalato Il pony Bipolare O quella Del gatto Chiatto Speriamo tanto Che questo video Vi sia piaciuto Di avervi strappato Un sorriso E se sì Mi raccomando Mettete un bel pollice in su Cliccate qui Per iscrivervi al canale E qui per non perdervi Tutti gli altri video Dedicate ai vostri giochi preferiti Noi ci vediamo al prossimo video Ciao